Andiamo a parlare che Armero non è un giocatore da Napoli La provocazione è lanciata Bisogna dire le cose vere Armero è inguardante Le squadre avversarie giocano contro il Napoli Prevalentemente destra ad attacco Armero fase difensiva abominevole Io dico quello che penso Chiedovenia Volete parlare della difesa Cannavaro è talmente una chiavica Che non può giocare chiavica Italiana Non ci siamo capiti Lui sta facendo il paradosso Che non può giocare in questa difesa Un giocatore come Cannavaro E' una cosa alla volta Dobbiamo parlare di Armero E' un giocatore